C'è chi si informa e chi invece viene qui per accedere direttamente e sottoporsi alla campagna vaccinale, al camper della regione toscana che in questa domenica approda a Monte San Savino durante la festa della porchetta e la curiosità è proprio che dopo aver effettuato il vaccino si riceve in omaggio un panino con la porchetta. In genere quando io lavoro in genere regalo giochini, figurine, ma mai un panino con la porchetta. Siamo di avere tante persone che verranno a vaccinarsi, sia prima dose che seconda dose. Speriamo di farne il più possibile, come ho sempre detto bisogna vaccinarsi, è importante vaccinarsi. Quindi più gente viene senza appuntamento, senza niente, meglio è. Io fino adesso non l'ho fatta perché ho avuto dei problemi di salute, però l'occasione la faccio volentieri. Ma il panino ha aggiunto qualcosa alla scelta o no? No, 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 questa è una cosa, deve essere senza queste cose. Tutti sono liberi di fare quello che vogliono, quindi chi vuol venire a mangiare alla porchetta può venire comodamente. Naturalmente chi ancora non ha avuto la possibilità o l'opportunità di farsi un vaccino, il vaccino c'è questa piccola possibilità a Monte San Savino. E il panino con la porchetta è il grazie di Monte San Savino a chi accede alla campagna vaccinale? Certo, questo era il messaggio che volevamo far passare. Un piccolo ringraziamento, un piccolo passo insomma, per questa sensibilizzazione, per questa campagna, per quelli che si vogliono vaccinare. Sì, buona idea. Ho visto che prima si è informata con la dottoressa e poi ha deciso per fare il vaccino. Sì, se tante volte uno potrebbe rimanere incinta, nel frattempo cosa potrebbe succedere? Però non c'è problemi, tutto regolare, consigliatissimo.